Alberto, sì, Alberto, sì, Borgni e cefacchetti con verdini, Rosato e cera, cera un gol. Don Menghini e Mazzola, Don Insegna Rivera, In panchina, In panchina, Don Zoff. E' il partito del ruolo! Arbitro? Arbitro! Che c'è? Perché io crede che lei ha sbagliato il punto che io dice di palla? Cosa? Forse un freccio! Io ho visto con mio occhio! Come dice voi Italia? Freccio, palla? O lei crede freccio di gatto? Di gatto? Io ho visto con mio occhio che a gatto ha fatto fallo! E' una gara di equitazione questa! Ci sono solo cavalli! Ma quel cavallo fischia come un gatto! Questo è brutto! Questo non è uno sport corretto! Tu sbagliato o no il punto! Noi lanciare frecce che ha toccato sempre il centro di faccia a cavallo! Tu non dare mai il punto a noi! Tu... Tu cattivo! Tu me laghi! Ha ragione lei! Tu me laghi! Tu non dare mai il punto a noi! E ora... Molto triste! E ora piangere! Piangere! Tu me laghi! Ma non faccia così! Signorina! Ma si fa così! 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 Nooo! L'ha fatta piangere! Nooo! T'avevo detto! Guarda! Guarda! Ma guarda! Vittoria Panchinara! Brava! Sì! E andiamo! Brava! Sì! Davi un 5! Così! E così che si fa ragazzi! E mi dispiace! Stavolta non ti riposso la... Mi servono! Mi servono tutti e sei! E io... E' il peggior investimento che abbia fatto nella mia vita! Cioè io non sto monetizzando nulla! Non sto proprio neanche un centesimo praticamente! Cioè io ho scoperto! Ho speso una valanga di soldi e per questa pletora di mentecatti che non sanno fare niente! Quindi... Li devo usare in un altro modo! In questo caso invece mi fanno guadagnare e monetizzare perché... Eh... Questi mi furtano molto di più! Hai capito? Quindi no! Non te li posso dare! Ciao! Prego entri! Buonasera! Buonasera! Come va? Bene! Allora c'è questo progetto in corso che vi potrà essere molto utile per una vostra trasformazione! Ah! Perfetto! L'importante è crescere! E infatti è crescere e anche diversificarsi! Certo! Essere quello che non si era prima! Ah! Certo! Certo! Perché nella vita bisogna ambire a questo! Bisogna essere sempre degli altri! Benissimo! Voi dovete regarvi a questo posto qui in Nevada! Aha! Sì! Area 51! No! Sembra 51! S1! Perché l'SM è venuta tipo 5! Perché sembra un 51! No! Area S1! S1! Non dovete portarvi niente! Ah! Niente! No! Assolutamente niente! Ci pensano tutto quanto loro per questa trasformazione! Capito? Ma è una gara comunque no? C'è uno sport? Sì! Non è una sorta di sport! Ma è più che altro una storia! È propedeutico! Propedeutico a un futuro! A un futuro di te! Va bene! Certo! Va da lì e stia! Io e gli altri! Stia lì! Stia! Si ricordi questo? Stia! Io stio! Io starò! Va bene! Va benissimo! Grazie! Buonasera! 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 Ma dove siamo? Non capisco! Ma cos'è? 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 No! No! Dite quelle cose! Non è sicuro qui! Ma adesso cosa succede? Poslettiamo? Ma quella? Oddio la luce! Perché? Oddio! Oddio! Che è successo? Hai sentito che verso fatto? Ma che faccia hai? Hai delle cose strane! Hai il becco a bocca! Ma non è botox? No! E che cos'è? Piume? Che è successo? Ma non vedas? Ma tu? Fodarsi che sia così! Ma non tu ommas? Piume! Come? Piume! Kiki! 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 Visto! Uc! Piume! Kiki! Kiki!